Nonostante il prestito ponte di 2,5 milioni di euro erogato dal comune di Taranto nei confronti della sua partecipata a Miu Chima Ambiente, l'avvertenza che riguarda i dipendenti dell'azienda è ancora tutta da risolvere. Infatti gli operai, insieme ai sindacati, hanno organizzato un sit-in di fronte alla sede del comune perché Chima non avrebbe in alcun modo sanato neanche una piccola parte dei debiti verso i propri dipendenti. Quello che i lavoratori chiedono è un confronto immediato per delle garanzie sul futuro, sul nuovo contratto di servizio e sul relativo piano industriale. Solo ed esclusivamente in sinergia con l'ente e con le organizzazioni sindacali i lavoratori potranno dare il giusto decoro a questa città. Si può fare, lo faremo, noi siamo disponibili. Quello che noi non possiamo più accettare è che la situazione venga gestita così alla giornata con annunci da parte sia della proprietà comunitaria, dell'amministrazione che della società che poi vengono puntualmente disattesi. Il contratto di servizio è la chiave di volta del futuro dell'azienda. Allora noi vogliamo capire oggi, tanto dall'azienda quanto dal socio unico, il comune, il futuro di questa azienda perché alle intenzioni e alle dichiarazioni sulla stampa devono seguire gli atti amministrativi con gli relativi impegni e le relative deliberazioni. Altrimenti si rimane sulla stampa. Ma il futuro di questa città, il futuro di Amio riguarda il futuro non solo dei lavoratori di Amio ma anche del servizio a questa città è una priorità che deve avere concretezza. Noi chiediamo oggi al socio e all'azienda concretezza negli atti e nelle scelte.